buongiorno a tutti in questo video parleremo del concetto di valore assoluto di un numero allora quali sono sappiamo che il valore assoluto si indica in questo modo e quali sono le definizioni di valore assoluto ne troviamo di di diverso tipo di solito nei libri di testo allora la prima che fortunatamente non è più presente forse in nessun libro di testo è che il valore assoluto di x è il numero x senza il segno allora questa l'ho riportata solo per motivi storici ma è una definizione diciamo inaccettabile da un punto di vista matematico perché un numero reale chiaramente ha un segno positivo negativo l'unico numero che non ha un segno lo 0 quindi questa definizione è quantomeno diciamo contraddittoria però vuole suggerire appunto il fatto che a questo numero consideriamo soltanto la parte senza il segno ma è solo un fatto intuitivo che non ci può portare poi a risolvere correttamente dei problemi la definizione che solitamente viene proposta dai libri è la seguente il valore assoluto è x se x è maggiore o uguale a 0 meno x se x è minore di 0 questa è una definizione sicuramente corretta però è un tantino ostica per diciamo tipicamente per l'allievo che la vede per la prima volta già una versione sostanzialmente equivalente di questa definizione in cui però la si racconta un po' più a parole può essere maggiormente comprensibile quindi è x se x non è negativo altrimenti è l'opposto di x in realtà io in questo video vi proporrò una quarta possibilità anzi una terza visto che la prima abbiamo detto che non ha senso che è definire e definire proprio il valore assoluto come la radice quadrata del numero elevato al quadrato questa espressione solitamente si dimostra essere uguale al valore assoluto di x ma non si assume come definizione in realtà invece assumendolo come definizione dal mio punto di vista si può dare al valore assoluto un significato geometrico quindi dobbiamo andare per fare questo percorso inverso dobbiamo rifarci al piano cartesiano quindi consideriamo il piano cartesiano e consideriamo un vettore nel piano cartesiano un vettore nel piano cartesiano può essere indicato semplicemente dalle coordinate della sua punta mentre la coda sarà sempre nell'origine allora se noi vogliamo calcolare la lunghezza ad esempio di questo vettore di coordinate 4 3 beh facciamo un ragionamento abbastanza semplice basato sul teorema di pitagora cioè costruiamo questo triangolo rettangolo i suoi cateti saranno proprio lunghi il cateto orizzontale 4 il cateto verticale 3 proprio quanto le coordinate della punta di questo vettore quindi indichiamo modulo del vettore 4 3 e usiamo non a caso la stessa notazione del valore assoluto come la radice quadrata di 4 al quadrato più 3 al quadrato cioè applichiamo il teorema di pitagora e troviamo che è uguale a radice di 25 che appunto è 5 quindi la lunghezza di questo vettore è 5 è chiaro che questo tipo di calcolo può essere generalizzato cioè se ho un vettore con coordinate x y generiche posso calcolare la sua lunghezza come radice quadrata di x alla seconda più y alla seconda per mettere alla prova però questa generalizzazione dobbiamo considerare altri casi ad esempio consideriamo il vettore simmetrico rispetto a questo da cui siamo partiti che ha quindi una coordinata negativa beh è chiaro che anche in questo caso la sua lunghezza sarà 5 però se vogliamo mettere alla prova la validità di questa formula l'andiamo ad applicare perché in realtà una delle due dei due cateti sarebbe avrebbe una misura fra virgolette negativa cosa che in realtà non è ammessa in matematica normalmente una misura è una quantità positiva o al massimo nulla quindi cosa succede invece usando questa formula ci rendiamo conto che comunque è corretta perché elevando meno 4 al quadrato si otterrà comunque 16 che addizionato a 9 darà comunque 25 quindi anche in questo caso questo vettore simmetrico a quello da cui siamo partiti si ottiene il valore corretto 5 qual è il prossimo diciamo passo quello di vedere invece è un caso sempre particolare in cui i due vettori sono sia opposti ma sono tutti e due sull'asse delle x quindi consideriamo ad esempio un vettore di coordinate 4 0 cioè di punta 4 0 e il vettore suo opposto meno 4 0 bene anche in questo caso mettiamo alla prova la formula e quindi andiamo a calcolare la radice quadrata di 4 al quadrato più 0 al quadrato nel primo caso e meno 4 al quadrato più 0 al quadrato nel secondo caso ovviamente otteniamo lo stesso risultato radice di 16 che è 4 adesso è chiaro che qui non si può parlare diciamo proprio di teorema di Pitagora perché in questo caso il triangolo sostanzialmente si appiattisce è un triangolo degenere in cui è come se uno dei suoi cateti uno dei due cateti fosse di misura nulla fosse ridotto a un punto però in realtà è proprio un caso limite degenere in cui il teorema di Pitagora continua a funzionare e ci restituisce proprio la lunghezza giusta allora questo è il caso proprio che ci interessa perché se noi consideriamo a questo punto tutti i vettori che giacciono solamente sull'asse delle x quindi che hanno una prima coordinata generica mentre la coordinata y uguale a 0 beh tutti quanti saranno la loro lunghezza sarà il loro modulo sarà calcolato con la radice di x al quadrato più 0 al quadrato cioè con l'espressione radice di x al quadrato allora a questo punto possiamo passare dal piano alla retta reale perché stiamo considerando sostanzialmente soltanto vettori sulla retta sull'asse delle x quindi eliminiamo una coordinata facciamo un percorso di diciamo siamo partiti da un piano ma adesso torniamo alla retta diminuiamo togliamo una dimensione e quindi i due calcoli che abbiamo fatto delle due lunghezze dei vettori non sono altro che nel primo caso la radice di 4 alla seconda cioè la radice di 16 che chiaramente è 4 nel secondo caso la radice di meno 4 al quadrato che comunque è radice di 16 cioè non cambia cioè vediamo che il valore assoluto ci dà una misura quindi una quantità positiva sia che il numero di partenze sia positivo sia che sia negativo questo significato geometrico a mio parere dà una sostanza un pochino più intuitiva al concetto di valore assoluto che quindi potrebbe tranquillamente essere definito come la radice di x al quadrato grazie per la vostra attenzione se vi è piaciuto il video come al solito vi invito a iscrivervi al canale e vi lascio come al solito una citazione questa volta da un matematico francese molto importante Poincaré dell'Ottocento che appunto sosteneva che la geometria non è vera ma sicuramente vantaggiosa grazie a tutti